Nelle puntate precedenti Ho menato una che non voleva stare zitta E poi l'ho spenta la sigaretta sul braccio Tutti vogliono delle risposte da me, ma io non ce le ho delle risposte Mentre stavo facendo shopping ho incontrato Chiara, la mia migliore amica del liceo Ma lei mi ha guardata come se volesse uccidere Mi sono fatta scopare da suo fratello E poi mi sono fatta anche Stefano, il suo ex ragazzo di quarta Suo padre come sta? Il vecchio Il vecchio in un letto E' lui che si scoppa gli stegisti La cena è di tuo gradimento? Sì, molto buono Mi sei piaciuto tantissimo ieri sera Eugenio De Stefano, timido e introverso Ogni eventuale contatto altrui con le sue emozioni lo spaventa Ma sì che va tutto bene papà Ti preoccupi per nulla Ti voglio bene anch'io Deve sapere che sono qui contro la mia volontà Voglio prendere il primo treno che passa in stazione E andarmene a fanculo da qualche altra parte Io faccio quello che voglio, hai capito? Io me ne vado da qui, hai capito? Me ne vado da questa merdita Questi quadri sono davvero interessanti Chi è l'autore? Li fa una mia amica Li tengo qui perché altrimenti non saprebbe dove metterli Ogni tanto viene a riprendersene qualcuno per venderlo Bevi qualcosa? Acqua, grazie Ho del vino Il vino? Ma sono le sere del pomeriggio, vuoi rovinarmi? Sì, scusa Sto scherzando, il vino va benissimo Ok Io non sono un'intenditrice di vini Ma spero che ti piacerà Non preoccuparti Scommetto che sarà buonissimo Sei molto bella, lo sai? Grazie Anche tu Hai delle bellissime labbra Eh, che metto tanto burro cacao Soprattutto d'inverno Ah, beh È giusto prendersi cura delle proprie labbra Sì Sì, scusa Puoi? Puoi Aspetta Aspetta Se andassimo in camera Ottima idea Caspita Che c'è? È che Sono signore E pensavo di arrivare fino a questo punto E quindi? Non ho le protezioni Ah, forse ne ho una io Perché l'altro giorno al supermercato C'era una signora in uno stand Che distribuiva Laura Sì? Ah, ok Mi dispiace ma siamo un po' sfortunati oggi Non lo trovo Va bene, dai Sarà per la prossima volta Sì Grazie. 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 Sei attivo o passivo? Dai, ti prego. Chiedevo così per sapere. Lascia stare. Andiamo? Adesso? Ma scopiamo? No, ti sto invitando a prendere un tè. Ma mi stai prendendo per il culo? Se chiudessi la bocca potresti farlo tu. Ti scopo dove e quando vuoi. Che classe. Ciao Alfonso. Se non è urgente ti richiamo tra poco. Cosa? Quando? Dai che a me mi si ammoscia tutto. Aspetta no. Dai, ci parli il dopocultura, cazzo. Oh, mi hai rotto il cazzo, levati! No, no, no. Non ce l'ha contato Alfonso, scusa. Beh, adesso cosa devo fare? Guardi, Miriana, che sono stata adolescente anch'io. E tra l'altro solo poco più di dieci anni fa. Sarà stato uno di quegli sfigatelli che rispondono sempre alle domande degli insegnanti. È la B, prof, mi metto a dieci. E invece potrebbe stupirsi. Eh, sentiamo allora. In quinta ginnose sono stato sospeso perché ho dato fuoco ai capelli del mio compagno di banco. No, dai, non ci credo. Eh, invece sì. Quella di Greco ha cominciato a urlare al fuoco, al fuoco! E il povero Matteo Tripicchio, la vittima, se l'è fatta sotto per la paura. Dai, non sono scema, ce l'ha arresto per cose del genere. No, no, che arresto. Era una scemenza, poi l'ho spenta con una manata sulla fronte. Ma è successo davvero? Sì, più o meno è andata così. E poi com'è che sei diventato così? Così come? Sério? Sono successe delle cose strane nella mia vita e ho capito che l'unica soluzione sarebbe stata fare il mio dovere. Strane. Potrei iniziare a trovarmi bene con te. E con sua zia? Quella non è scema, ma ne frega un cazzo di quello che dice, tanto non è mia madre. Ecco, e sua madre appunto cosa pensa le direbbe? Ha picchiato una ragazzina e poi le ha rubato un braccialetto? Non sono stata io, basta con questa cazzo di storia. Va bene, ma cosa le direbbe sua madre? Che sono una stronza. Ecco, vedi? Allora c'è una parte di lei che lo pensa. Mi sembra che ci stiamo allargando un po' adesso. No, Miriana, perché lei pensa di essere una stronza? Basta, se lo dici l'altra volta ti spacco la faccia. Ecco, vedi Miriana, fa male. Adesso immagini che glielo stia dicendo sua madre. Ma che cosa cazzo vuoi dire con questo? Voglio dire che deve cambiare atteggiamento se vuole andare veramente via di qui. Deve imparare ad accettare dei compromessi, come ho fatto io. Io non accetto proprio un cazzo. La prossima volta che le verrà da tirare un pugno a qualcuno, pensi a questo. A cosa? A sua madre che le dà della stronza. Eh, grazie, così adesso non potrò più nemmeno picchiare la gente. Lei mi ha più sentita con l'oglianza. Grazie mille, direttore. Tuo padre è stato un uomo capace di creare un impero da nulla. Io gli devo la mia carriera a Enos. Lo immagino. Ricordo ancora il giorno in cui ha deciso di fondare l'azienda. Lavorava come ingegnere alla Lesler. Gli avevano appena proposto una promozione, ma lui si è licenziato. Il mattino dopo è venuto da me a casa. Io ero ancora in pigiama. Gli ho aperto la porta e l'ho trovato lì ad aspettarmi. Gli ho fatto accenno di entrare e lui ha scosso il capo e mi ha detto Peppe, muovi il culo e vieni con me. Oggi abbiamo da lavorare. Tuo padre era un uomo a cui non si poteva dire di no. Lo so bene. Sai che cosa mi ha detto l'altro giorno? Cosa? Posso morire felice, caro Peppe. Perché so di lasciare l'azienda nelle mani di mio figlio. Vedi Damiano, mi rincresce a parlarne adesso, ma... Tu sai come vanno queste cose. Domani dovremo inviare un'assemblea dei soci per il passaggio di direzione in tuo favore. Ascolta, io... Posso almeno vedere la sepoltura di mio padre prima? Damiano, ma tu lo sai che cosa avrebbe detto tuo padre, no? L'azienda prima di tutto. E così deve essere se vuoi onorarlo. Davvero, ne parliamo domani, ok? Grazie. Certo, Damiano. Damiano, ti faccio chiamare da Carla e mi raccomando... Stai lontano dai clani, ok? Tuo padre sta meglio adesso dove stai. D'accordo. Sposta questo culono. Aghia, mi fai male. Guarda che questo culono, un giorno avrò un sacco di soldi. Sì. C'ho già una poltrona libera per me a New York. Sì. Nel Bronx, però. Eh, vedremo. Intanto appena finiamo il liceo prendo un volo e vado via. E Matteo lo lasci qui. Matteo chi? Matteo. Sei una roba. Ci pensi mai? Eh? Ci pensi mai? A cosa? Al poi. Che vuoi dire? Voglio dire... A volte guardo un punto fisso davanti a me, no? E mi vedo con un abito lungo, in prima fila. Ho una sfilata di moda a New York. E la sfilata ovviamente è la mia. Ehi, guarda che sto già facendo degli schizzi di qualche vestito. Ti conviene chiedermi l'autografo fin da ora? Ma vai a cagare. Comunque sì. Psicosa. Ci penso sempre. Voglio fare medicina. E andare in India a curare i bambini malati. E cazzate di questo tipo. Non ti permetterò mai di avvicinarti con tutti quei giorni che ti porterai dietro. Non ci sarà il rischio se sarai in America. Mi dice che esisterà il teletrasporto. Sì. Credo di sì. Così magari tra dieci anni riuscirò a teletrasportare il tuo culone. Dai! Sì. 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 Ovidio nelle metamorfosi. racconta che vicino Roma, nel bosco di Ariccia, c'era una fonte, le cui acque ebbero origine dalle lacrime di una dea. Egeria era il suo nome. Un po' me la ricordi. Hai l'espressione austera di una donna che ha sofferto molto e quella cosa che fai con gli occhi, che li chiudi ogni volta che sospiri. Sembri Calipso. Ma sette anni non basterebbero a rendermi pieno di te. Accetterei l'eternità se mi permetterai di farlo sfiorandoti le mani. Ma dimmi, dove sei adesso? Perché non ti trovo? Sei scomparsa. Allora ecco, ho svelato la tua identità. Sei Euridice e io, come Orfeo, ho deciso di cercarti troppo presto. Ma sono contento, perché adesso potrei capire il mio silenzio e assecondarlo. a presto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.